Come siamo, nervosetto no? Abbiamo mangiato, abbiamo la pancia piena, abbiamo fatto un giretto, forse dopo ne faremo un altro. Rosalinda Cannavò, reduce da una giornata fuori con Andrea e la piccola Camilla, ha condiviso con Iva gli ultimi aggiornamenti. Ha raccontato come l'arrivo dell'autunno e le giornate uggiose stiano influenzando la loro routine. Infatti, quando il tempo è cupo e piovoso, uscire con Camilla diventa quasi impossibile, il che spesso rende triste la piccola. Così, appena il cielo si è aperto, Rosalinda e la famiglia hanno colto l'occasione per una passeggiata alla ricerca di un po' di sole e vitamina di la giovane mamma confidato che, nonostante tutto stia andando bene, alcuni imprevisti con Camilla rendono difficile godersi al massimo certe uscite. Nei ristoranti, ad esempio, è una sfida, Camilla si agita facilmente e richiede attenzioni, come accaduto di recente durante il complanno del padre di Rosalinda. In quell'occasione hanno dovuto lasciare il locale a metà cena perché la piccola era diventata irrequieta. Nonostante questi piccoli ostacoli, Rosalinda ha sottolineato che la vita familiare procede in armonia e che stanno affrontando le sfide quotidiane con serenità e spirito di adattamento. Tralasciando il mio aspetto perché io a casa sto sempre con questo cerchietto. Comunque volevo semplicemente dirvi che sono molto soddisfatta del mio make-up. Comunque volevo semplicemente dirvi che sono molto soddisfatta del mio make-up.